Perchè dobbiamo fare come Maria Antonietta che quando si esprime il popolo ha detto che aveva sbagliato e quindi ha ragione il popolo. Se c'era oggi un certo Berlinguer, questi qui dovevano andare via, la minoranza doveva andare via. Sono i dirigenti del nostro partito, che non è il loro, è il nostro partito, che si sono dimenticati che c'era un popolo che a maggioranza aveva deciso che quella riforma costituzionale doveva essere votata per il sì. Punto. E loro sono andati in piazza e sono andati a festeggiare abbracciandosi insieme ai fascisti. Oggi c'è la comunicazione del capo del governo, così ho capito, ma il dibattito va fatto perché ce n'è bisogno, lo faremo nei prossimi giorni, perché siamo in una crisi di governo aperta e si lavora per chiuderla. Poi discuteremo, spero anche in un congresso da fare molto presto. ELEZIONI! 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 Neggiano a Matteo. Neggiano al PD. Questo è un partito, non è di proprietà di nessuno. Vediamo se riesce a parlare almeno in direzione il segretario e poi rientreremo nella dinamica che aspetto di ascoltare le valutazioni che fa il mio segretario su questa... La sua posizione? La posizione è chiara, congresso subito. Congresso subito e poi decidere a Mattarella se ci sono le condizioni per avere un governo di cui il paese penso abbia bisogno. Boccia, andate via! Andate via! Questa è casa nostra! Questa è casa nostra! Via! 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 Via!